allora buonasera a tutti spero che si senta bene da remoto qualche considerazione sulla seduta precedente sul seminario precedente di aprile direi sopra mi concentro su qualche punto essenziale abbiamo trattato della relazione vivente cioè quella relazione che non presuppone i termini che mette in relazione ma li pone diciamo così no no un accidente è un grande problema in realtà è un problema grossissimo sul quale abbiamo cominciato a interrogarci perché chi pone cosa pone che cosa viene posto sostanzialmente viene in luce una grande ambiguità che ci riguarda da parlare in maniera diretta perché è evidente che quando noi diciamo c'è una relazione vivente tra organismo e ambiente vogliamo dire reciproca cioè che non c'è un organismo se non per quell'ambiente non c'è ma intanto vedete stiamo già usando organismo e ambiente cioè abbiamo a che fare con queste parole da dove vengono chi le ha poste come si sono poste quindi è facile dire la relazione vivente invece che è facile ma poi siamo come prima ecco una prima apertura a questo problema per camminare dentro questo problema e ricordarci della distinzione che avevamo fatto tra memoria e ricordo memoria diciamo in fretta il progetto di vita la memoria ognuno è gettato in un progetto di vita che ha luogo nella sua come dire declinazione nel suo axis terre cioè qui in questo luogo a quest'età in questo momento della fase cosmica a cui parteniamo in questa cultura all'interno di questo c'è un progetto di vita all'interno di questo c'è il progetto di vita di orazio c'è il progetto di vita di cartesio poi parlavamo di ricordo ricordo sono le competenze tecniche diciamo per intenderci le competenze specifiche scientifiche che occorre possedere per vivere in quel in quella memoria cioè quello che è disponibile nella verità pubblica di quel tempo per poter realizzare i propri progetti ecco tutto questo articola il nostro tema fondamentale della verità pubblica in una maniera progressiva oggi dovremo tirare le fila decisive ecco come sono disponibili queste verità pubbliche come si articola il tema fondamentale della verità pubblica della sua architettura abbiamo detto noi in connessione col tema generale di quest'anno l'architettonica della verità pubblica come si costruiscono le figure del sapere che abbiamo in comune tutti noi per esempio ognuno con la sua opera il suo progetto di vita eccetera ecco questo esercizio questo esercizio della memoria questo è un passaggio fondamentale non è non è guidato l'esercizio fondamentale della memoria la ragione per cui voi siete qui come progetto di oggi con la sua tecnica filosofica di oggi eccetera eccetera non è questo esercizio mosso da un astratto amore della verità nessuno di noi sta pensando qui alla verità ma è ma mai mostro dicevamo dal pathos della emozione quel pathos dell'emozione che avevamo letto in un passaggio molto bello di charles underpearls che diceva una cosa fondamentale diceva il mondo non è prima logico e poi emozionale emozionale ed energetico cioè attivo ma attenzione neanche viceversa non è che allora prima emozionale no le due cose sono due ante della stessa soglia diciamo così sono due facce dello stesso sapere comune e questo pathos questa espressione delle emozioni queste nostre emozioni non hanno a che fare con dire la verità ma con qualche cosa d'altro sul che ci concentreremo oggi particolarmente ma che già nominamo come passaggio all'etica ne abbiamo dato una prima indicazione ma oggi andremo molto più a fondo naturalmente tireremo le conclusioni per oggi possibili e come avevamo indicato questo passaggio all'etica tenuto conto di tutto quello che ho ricordato sin qui con una espressione che abbiamo preso da mario biagini che la usò qui a me cri molti anni fa dicevamo il progetto di ciò che io voglio essere e di ciò che voglio che sia ognuno ognuno di noi è gettato nel progetto di quello che lui vuole essere e che contemporaneamente vuole che sia che il mondo sia diciamo così fase diciamo espressione inoggettivabile perché se la oggettivate non fate altro che reiterare questa esperienza di mostrare che cosa volete essere e che cosa volete che sia quindi il progetto diciamo così nasce da una vita vivente si traduce nel suo ricordo nel ricordo dei mezzi disponibili di quel tempo e quindi abbiamo qui un intero indeclinabile che già diceva bene user non nasce dai libri ma nasce dalla vita non nasce dalla teoria ma nasce dalla pratica caso male a ciò va aggiunta un'altra nozione importante sulla quale ci siamo soffermati che ogni progetto lascia traccia per lo più ogni progetto lascia segni lascia segni sepolcro in ogni progetto rimane il luogo della resuscitazione della rinascita nella possibilità continuamente di riattivare nella vita la vita passata nella vita presente attraverso un ricordo attraverso lo stacco che su cui ci siamo molto soffermati tra nato e antenato che ora qui non riprendo lascia germoglio del futuro che per noi per tutti noi in quanto partecipi della stessa axis in quanto partecipi della stessa cultura si specificano nei nomi delle parole e attraverso i nomi delle parole che io ridò vita ad una vita passata che ha lasciato traccia nel suo progetto nella sua memoria ecco che cosa comporta allora avere visto quello che ho qui richiamato molto sinteticamente che cosa fare di questo essere venuti a sapere o essere venuti al sapere ecco così si apre il passaggio all'etica ulteriore quello di oggi passaggio all'etica diciamo così che si caratterizza per una peculiare radicalità qui insomma o ne usciamo bene o non ne usciamo oggi si decide diciamo così partirei da questa considerazione dalla pratica teorica come diceva ursa dalla considerazione che ogni teoria è una praxis questo deve essere ben chiaro tutte le volte che noi ci impegniamo a fare teoria diciamo a esercitare una teoria ogni teoria è una pratica teorica ogni spiegazione delle cose ogni comprensione delle cose non significa questo è quello che avremmo acquisito sin qui non significa acquisire la realtà in sé di queste cose una supposta realtà in sé significa anzitutto che cosa tenere in vista del fare che cosa è opportuno nelle pratiche della vita quotidiana che cosa quotidiana non insisterei è solo lì che il progetto articola diciamo così la memoria che si articola nelle sue tecniche si tratta di pratiche di vita che si rivelino più efficaci in vista di certi fini più potenti ecco la parola potenza oggi sarà esploderà più potenti per le conseguenze pratiche qui ricordiamoci di perse per le conseguenze pratiche che vengono messe in opera faccio un esempio per mostrare la radicalità di questo pensiero che sembra semplice ma non lo è esempio marx marx sostiene ora lo riassumo indegnamente in poche battute marx dice che la rappresentazione che gli umani si fanno di loro stessi e del mondo per esempio si fanno l'idea che il mondo sia stato creato oppure si dà l'idea che il mondo c'è il prodotto di un'evoluzione di un processo ecco queste idee che gli uomini si fanno dipendono dai mezzi materiali di cui dispongono e dal lavoro dalle forme del lavoro sociale in cui si trovano axis terra molto bello molto importante questo rinvia quindi a quello che marx pensa che gli umani siano in verità ma in base a quale forme sociali lo dice vedete qui subito dobbiamo spostare l'orizzonte è vero e non è vero non si tratta di questo non si tratta di stabilire se quello che qui marx dice è vero o non è vero se è vero paradosso che quello che dice dipende dalle forme del lavoro sociale del tempo suo delle tecniche delle macchine dei linguaggi dei discorsi allora la vera domanda è a partire da quali discorsi a partire da quali linguaggi a partire da quali tecniche da quali strumenti da quale lavoro sociale viene fuori un tipo come marx che dice quello che ho appena ricordato no cioè in base a quali forme sociali lo dice non ci interessa non ha senso chiedere ragione della sua verità perché se noi chiedessimo ragione della sua verità di nuovo dovremmo chiedersi ma in base a quali forme sociali eccetera 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 paradosso totale fine di ogni figura della verità oggi toccheremo questo punto fondamentale fine di ogni possibile ontologia metafisica chiamatela come volete ma anche scienza oggettivante universale quindi il problema che emerge non è se sia o non sia vero ciò che si dice se sia vero che noi siamo figli di dio che sia vero che siamo figli delle dell'evoluzione è difficilissimo scostarsi da questo punto di vista perché questo è il punto di vista che è proprio di tutti noi no tutti noi combattiamo lottiamo ci inseguiamo non è se sia vero non sia vero ciò che si dice ma quali siano le conseguenze di ciò che si è detto le conseguenze pratiche quale esercizio inneschino quale messa in opera cioè quale verità vivente si trovi rappresentata vivente cioè quello che per me è impossibile non credere vero perché sono in quell'axis terra eccetera 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 cioè la rappresentazione di tutto il reale che per me è reale tutto c'è in quel transito nelle sue infinite relazioni in movimento nella presupposizione del reale supposto come oscuramente operante ma non riducibile al vero ma siamo noi che diciamo così di nuovo no anche questo diciamo così è una conseguenza delle pratiche entro le quali di vita di pensiero ci ritroviamo dove direbbe persi il fallibilismo di ogni figura della verità donde il fallibilismo le figure della verità transitano e nel loro transitare mostrano la loro inconsistenza che non possono altro che transitare in armonia con le pratiche di vita che le hanno prodotte ma non possono sussistere oltre quelle pratiche di vita fallibilismo di ogni figura della verità è molto difficile a questo punto parlare dire eccetera eccetera capite in particolare la pratica del linguaggio col suo lessico quello che noi diciamo pratica del linguaggio ben inteso dobbiamo ora sottolineare non intende dire che cosa sono le cose in verità non è vero questa diciamo potrebbe essere una specializzazione della pratica linguistica ma quando noi parliamo non intendiamo dire cosa sono le cose in verità immaginate come se fossero in sé in verità facciamo una cosa molto più semplice diciamo che cosa c'è da fare diciamo costantemente che cosa c'è da fare e così dicendo cosa c'è da fare manifestiamo la potenza del nostro linguaggio ecco ricordo che il giovane niccia perché oggi faremo i conti con lui il giovane niccia basilea nelle elezioni di basilea giovanissimo che è una premessa coerente quella che ora ricordo di tutto il suo cammino di questa sera leggeremo la conclusione sosteneva appunto la natura retorica della parola la forza retorica la parola una forza retorica cioè appunto dice che cosa c'è da fare impone un fare ne abbiamo trattato nel seminario diventa ciò che sei il primo anno di mecri cioè vita conoscenza che florinda cambria curato per la jacobu la potenza del linguaggio quindi la pratica verbale è potente potremmo descriverla così anzitutto perché coordina l'azione l'azione personale l'azione collettiva da un nome ai fini dicevamo prima nel del progetto che cosa vuoi essere ma cosa puoi essere se non hai progetto verbale il progetto verbale potenzia il progetto puramente animale del corpo animale diceva gagliere anche il corpo animale ai suoi progetti no deve respirare deve succhiare deve mettere a fuoco deve afferrare ma altra cosa quando io posso dire mettere a fuoco afferrare succhiare allora la parola potenzia enormemente quest'azione ne formula gli scoppi gli scoppi sono formulati non semplicemente agiti quindi perseguiti coscientemente ne formula i mezzi concentra le proprie forze le concentra in unione con gli altri le dirige più o meno coscientemente al fine immaginato al fine desiderato attenzione è quello che sto facendo non è un'altra cosa cioè in questo dire io sto facendo questo sto dando un nome ai miei scopi sto potenziandoli sto imponendoli come vedremo sto trasmettendoli sto condividendoli non li condividiamo è questa trama trama pratico potente che diciamo guida il gioco perché noi siamo nella dispersione della vita di corpi separati ricevamo in altri momenti siamo frammenti dello specchio di dioniso abbiamo detto in altri luoghi i viventi sono sempre così separati e quindi devono coordinare la loro azione la propria è quella degli altri senza della quale non ci sarebbe neanche la loro e quindi c'è una continua ricostituzione unitaria della efficienza della potenza alla quale il linguaggio da un contributo fondamentale con la forza dicevamo della fantasia vi ricordate ne parlavamo nel cartiglio 20 la forza della immaginazione di immaginazioni preverbali e di immaginazioni verbali che reggono il patos quello che pers chiamava il patos l'emozione queste fantasie sono poi educate dall'arte dinamica di cui parliamo nel seminario delle arti dinamiche e nello stesso tempo sono educate nella riflessione filosofica fantasmi immaginari della parola insomma no uno di questi è la realtà in sé necessari efficaci non veri efficaci per quanto lo sono uno di questi certamente è verità la realtà in sé ma attenzione attenzione e questo lo capiamo molto più avanti stamattina stasera anche potenza non è che potenze più vero forse più efficiente e accomodarci su questa soglia come vedrete non è affatto semplice allora il fine vero delle pratiche verbali come quella che sto ora esercitando non è di dire la verità se voi pensate che io creda di dire la verità vuol dire che tutto il percorso è stato inutile io non ritengo affatto di dire sarei al fresco se dovessi sostenere questa cosa che non so proprio come potrei sostenerla vedremo poi i paradossi della pretesa filosofica di sostenere questa cosa perché questo è l'ultimo traguardo della filosofia tradizionale della filosofia occidentale il fine delle pratiche verbali la loro ragione d'essere è la potenza è l'efficienza si tratta di potenziare le forme di vita che siamo coordinando la divisione originaria dei corpi come dicevo prima nelle loro relazioni divenienti separazione e conflitto ricordo qui un passaggio molto bello di alfred north white sono il prezzo per l'efficienza diceva lui il valore di scorpi sempre più complessi nasce dalla loro dialettica dalla loro incongruità congruente dalla loro congruenti incongruità di questo noi abbiamo dato un cenno nel cartiglio 22 quando parlavamo del cammino della civiltà globale cioè del fatto che attraverso le parole e stasera ne verremo a capo si crea certo una continuità no si è vero che ogni epoca ha le sue illusioni di verità le sue immaginazioni le sue fantasie appunto siamo figli di dio no siamo figli dell'evoluzione però non c'è dubbio che ci sono delle tecniche di relazione col mondo e con gli altri che si traducono attraverso le epoche l'età non c'è alcun dubbio che noi siamo più potenti di un uomo primitivo o cosiddetto tale non c'è alcun dubbio se lo incontriamo infatti lo facciamo morire subito non regge un istante come si è tradotta questa potenza questa verità pubblica del potere ecco questa è un'altra grossa domanda no dove la complessità diventa efficiente ma anche problematica che è quello che ci caratterizza sempre tutte le comunità umane per quello che possiamo capire ricordare sono state a loro modo efficienti e a loro modo problematica infatti non si fermavano mai e tutte le loro verità tramontavano per maturarne altre in questo senso bene male buono e cattivo costruttivo distruttivo sono punti di vista relativi agli interessi ai fini parigi val bene una messa ai fini ecco con questo abbiamo fatto un primo tratto di cammino e vorrei ora approfondirlo ricordando un detto famosissimo di heidegger che diceva tutte le vie del pensiero odierno del pensiero moderno pensiero contemporaneo conducono oggi al linguaggio bella frase come quella di heidegger sempre che diceva gli esseri umani hanno dimora nel linguaggio bella frase solo bella perché in realtà è un coacervo di problemi irresolubili al linguaggio quale come perché in che modo prendo l'esempio per brevissimo è molto come dire perché mi fa comodo ma con una certa ingiustizia di gilles de leuze che è un grandissimo pensatore uno dei più grandi della contemporaneità il quale disse una cosa che si può comprendere condividere credo disse dobbiamo liberarci dalla superstizione del linguaggio cioè dal fatto che il linguaggio è istintivamente metafisico che se io dico lo spazio vuol dire che c'è lo spazio che se io dico il linguaggio vuol dire che c'è il linguaggio questo vi ricordate lo aveva notato a modo suo e maniera molto efficace qua in quando diceva il linguaggio è concettuale non è assolutamente vero questa è una proposizione che possiamo dire noi occidentali abbiamo molti motivi per dirlo ma certamente in altre culture questa frase non ha nessun senso non è nemmeno formulabile oltre che incomprensibile ma relativamente a noi è verissimo noi abbiamo un uso metafisico logico metafisico ontologico ontoteologico metafisico del linguaggio perché crediamo che le parole del linguaggio dicano delle cose delle cose reali e allora diceva de leuze bisogna liberarsi dalla superstizione del linguaggio dalla sua metafisica implicita che induce a credere alle realtà di oggetti corrispondenti alle parole come vedete lui crede che il linguaggio sia lì per dire la verità è una proposizione penosa perché paradossalmente è proprio quello che sta facendo nel mentre dice che ci dobbiamo liberare dal linguaggio della sua metafisica implicita dice il linguaggio dobbiamo liberare dal linguaggio quindi to guarda c'è il linguaggio voi capite bisogna avere coraggio in filosofia anche di fronte ai grandissimi come platone aristotele bisogna avere questo coraggio perché è il destino in cui ci siamo destinati qui non è mica che siamo più bravi è che qualcosa è successo che ci ha reso visibile questo aspetto diceva de leuze perché era de leuze uno che la sa lunga che il proposito di fuggire dalle di una via di fuga dal linguaggio non era totalmente da prendere così era da via di fuga dal linguaggio nel linguaggio è intelligente bravo così da ritrovare parole sue la pura immanenza della vita oltre la logica delle parole la pura immanenza della vita dove io mi rivolgerei la stessa lo stesso dubbio dell'inizio sulla relazione vivente che cos'è la immanenza che cosa è la vita che cos'è la logica se non parole e dice ancora bisogna attingere una immanenza assoluta questo è il suo sogno è l'intuizione che criticava hegel il colpo di pistola che mi metto dentro la realtà assoluta immanenza assoluta di chi si è lasciato alle spalle ogni dualismo dice immanenza assoluta che ci conduce anche di animale e già la vita animale come prima di quella del linguaggio né giustificato né ingiustificato ci tratterebbe oltre i fantasmi verbali oltre i fantasmi metafisici verbali di raggiungere l'aldilà del linguaggio in esperienze assolute frase penosa le esperienze se sono tali non sono assolute se sono assolute non sono esperienze questo è assolutamente pacifico anche per lui poverino ma il tutto come dire tutti questi propositi tutte queste fantasie verbali sono già presenti no in tutto questo che lui sta dicendo siamo già giocati dal linguaggio siamo già giocati nel linguaggio e ci sono tutte espressioni evidentemente linguistiche quelle con le quali abbiamo a che fare e potrei raggiungere aggiungere una cosa di cui ho già fatto cenno è la pratica filosofica alla quale siamo abituati da 2500 anni ragazzi e non da ieri e la pratica filosofica che legge nel linguaggio una strutturale convivenza con i fantasmi metafisici della cosa in sé e questo linguaggio che pensa così e che si mette in questi paradossi irresolubili di cui Deleuze è la valorosa testimonianza finale no la coraggiosa testimonianza sicuramente disastrosa testimonianza finale ma nella pratica quotidiana non si tratta dell'ontologia delle parole ma del loro successo entro la pratica di vita in azione espressioni come c'è ancora burro o mi dai del burro o vai a comprare il burro nessuna di queste intende definire il burro o dire che cosa il burro è in verità l'espressione verbale ha consistenza in sostanza dentro le concrete pratiche di vita diceva Wittgenstein un bel articolo di Felice Cimatti che è uscito su Out Out nel giugno del 22 metteva appunto in relazione Deleuze e Wittgenstein lo faceva molto bene Wittgenstein la sa più lunga diciamo così perché dice ma il linguaggio è coerente con le forme di vita dice quello che si può dire in quella forma di vita Marx a seconda degli strumenti del lavoro e quindi le emozioni le pratiche sociali e diceva ancora Wittgenstein in maniera intelligente il linguaggio fa ciò che deve fare ragazzi è inutile criticare il linguaggio dire che è metafisico che ci illude facendoci immaginare che dica delle cose ma il linguaggio non fa nessuna di queste cose e soprattutto fa ciò quello che deve fare e come diceva Wittgenstein con una frase famosa va bene com'è va bene così però eh non lo lasciamo passare neanche lui in base a quale forma di vita dice tutto ciò questo si dimentica di chiederlo o non lo vede proprio a quale forma di vita premana questo dire questa suggestiva e virtuosa importante nutriente maniera di impostare il problema evitando certe inconseguenze di Deleuze allora torniamo al punto il punto lo posso riassumere adesso tutto questo discorso di esordio chiamiamolo così il punto è che nella pratica corrente dei discorsi che facciamo sapete che io dico discorsi per evitare la parola linguaggio non è che cambi molto eh diciamoci la verità ma è un modo per intendersi quindi nella pratica dei discorsi corrente non si tratta di dire che cosa sarebbero le cose che si dicono in verità e su questo si deve essere irremovibili non dicono che cosa sono le cose in verità ma dicono che cosa c'è da fare e quindi questo riguarda la potenza del discorso non la verità ma questo ricordavo poco anzi l'aveva già detto molto bene Nietzsche aveva cominciato a vederlo nelle lezioni di Basilea sulla retorica la potenza del linguaggio e lo riprende in fin di vita che quello che faremo questa sera confrontarci con l'ultima frontiera di Nietzsche e cioè con i frammenti postumi dell'88-89 io farò riferimento alle opere di Adelphi volume ottavo tomo terzo a cura di Giorgio Colli e di Mazzino Montinari di cui ricorderò all'inizio un brano molto bello introduttivo a questi frammenti che sono della primavera autunno 88 poi 89 il buio traduzione di Sossio Giametta ma adesso vi devo pregare di una cosa me la sono appuntata per dire con esattezza quello che voglio dire adesso io farò questa lettura poi faremo la pausa ma questa lettura io la intendo come un anticipo sperimentale della conclusione sperimentale proprio nel senso in cui Nietzsche diceva già facciamo un esperimento con la verità ecco noi facciamo un'esperienza a nostra volta un esperimento a nostra volta con questa lettura perché questa lettura diciamo così ci consente di attingere la nostra figura del sapere assoluto nella modalità in cui la faremo del nostro sapere assoluto cioè sciolto da ogni contingenza perché attenzione il perché è importantissimo totalmente coincidente con tutte le contingenze che ci riguardano non sciolto perché noi siamo volati nell'empireo sciolto perché non assume nessuna contingenza ma tutte è l'espressione di tutte quelle che riguardano me prima battuta e tutti voi che molto gentilmente mi ascoltate e allora ecco qui accade uno spostamento difficile è al limite impossibile è tuttavia visibile ravvisabile ma vi pare che dopo tutto quello che noi abbiamo detto tutto quello che tutto il cammino che abbiamo fatto vi ricordo tutto il cammino con arduini conoscere tradurre la bibbia i vari linguaggi partendo dalla questione fregheana ma come si fa a stabilire un linguaggio comune se ognuno addirittura ha un linguaggio proprio personale allora non crederete mica che io adesso qui mi metto a leggere Nietzsche partendo dall'ipotesi di dirvi che cosa Nietzsche aveva detto in verità perché se facessi questo tutto il nostro cammino sarebbe stato inutile non solo ma sarei nella illusione di Machiavelli qui alla sera si veste per benino si mette la vestaglia curale e dialoga con gli antichi no un cavolo quindi noi dobbiamo sospendere questa cosa dobbiamo non cadere in questa illusione di fare un'esegesi storiografica di quello che dice Nietzsche in verità quello che proprio lui intendeva dire abbiamo bisogno di un altro ascolto di esercitare in noi per me un'altra lettura è ascolto perché la voce come sapete è autofonica per voi un ascolto particolare un altro tipo di ascolto sia che le parole siano di Giorgio Colli e Montinari come all'inizio saranno sia che siano tutte tutte nessuna esclusa di Sossio Giametta tutte e Sossio Giametta che parla mica Nietzsche mica Colli mica io è lui che ha tradotto ed è una bellissima traduzione tra l'altro o almeno così è stimata io sono d'accordo oppure che vi dico l'ipsissima verba di Nietzsche o le mie perché ogni tanto mi verrà fatto di commentare di dire qualcosa non è questo diciamo l'atteggiamento che io vi chiedo di assumere non è questo che qui si tratta di fare si tratta anzitutto di accogliere queste tracce questi segni cominciando da quelli che sono qua dicevo prima e si capisce perché insistevo come sepolcri sepolcri dove il Cristo è sempre risorto non c'è mai perché quando lo riconosci è già rinato è già risorto nel tuo riconoscimento diciamo così quindi sono luoghi nei quali appunto la parola vivente che noi faremo vivere e vibrare qui questa sera ridà vita a una catena infinita di tracce è chiaro dietro a tutte queste tracce c'è la storia dell'alfabeto l'infinita storia dell'universo quindi ridiamo vita carne agli scheletri del passato attenzione perché non facciamoci delle illusioni di nuovo e delle fantasie non è che in questo modo noi cancelliamo ciò che nello sfondo ci rimane abituale cioè che stiamo cercando di dire in pratica storiografica la quale siamo avvezzi con la pratica storiografica che ci caratterizza quel che diceva Nietzsche in verità siamo nel sapere assoluto che coincide con le sue contingenze questo è accaduto i nostri sepolcri sono fatti così abbiamo messo 2500 anni per arrivare alla grande storiografia alla grande filologia Nietzsche se ne ricorderà proprio in questi passi quindi non è che noi cancelliamo e diciamo adesso facciamo un'altra cosa come se avessimo il potere di fare un'altra cosa noi di lì veniamo siamo i nati di quegli antenati e quindi abbiamo i corpi che abbiamo e le fantasie che abbiamo e le illusioni che abbiamo che sono vitali per noi sono come ciò che voglio essere ciò che voglio che sia e certamente ognuno di noi quando legge Nietzsche vuole che sia la giusta interpretazione non una cosa che sia non vogliamo immaginarci quel che ci pare assolutamente no vogliamo una coerenza vogliamo una continuità vogliamo un'efficacia e però non ci basta e però contemporaneamente noi accogliamo questo detto spogliandolo non possiamo spogliarci di questo abito così consustanziale si potrebbe dire che non possiamo assolutamente abbandonare lo mettiamo in opera anche quando non vogliamo non possiamo sospenderlo possiamo tenerlo a distanza lasciarlo sullo sfondo ma è lui stesso Wittgenstein le parole dicono quello che devono dire per quelle forme di vita e noi siamo questa forma di vita non un'altra forma di vita però e questo l'abbiamo imparato da tanti filosofi della modernità Foucault è uno di questi più potenti possiamo sospendere l'illusione del soggetto possiamo sospendere l'illusione che sia proprio io a dire che siate proprio voi a dire che sia proprio il libro a dire che sia proprio Mazzino Montinari a dire che sia proprio Sossio Giammetta a dire che sia proprio Nietzsche a dire gli sto chiedendo una cosa difficile lo so ed è un esperimento che può avere esiti diversi ma certo quello che noi ora faremo o tenterò io di fare con la vostra collaborazione è di lasciare scorrere davanti agli occhi e alle orecchie lasciare che si formi, prenda forma davanti a noi letteralmente un textus prima parola di questo seminario cartiglio numero 1 textus la verità pubblica eccetera eccetera un textus come un tessuto lasciamo che accadano queste parole spogliate del loro riferimento al soggetto o tendenzialmente spostate messe in rilievo il soggetto nello sfondo messe in rilievo e la verità nello sfondo che abbiano sfogo nella loro personale potenza un textus come un'infinita trama di fili di parole di snodi di visioni, di emozioni lasciamoli accadere un variapinto tappeto appunto una tela di penelope che ognuno ricompone per sé ben inteso, no? anche senza saperlo e magari immaginando perché questa immagine è per noi intestardamente presente di correre dietro alla verità di cercare la verità mentre tutto quello che fa è ascoltare il suo farsi nella sua potenza il modello della sua potenza ognuno la sua ecco con questo esercizio per quanto mi riguarda anche se poi abbiamo alcune incombenze da risolvere dopo questa lettura che sarà lunghetta come si dice per quanto mi riguarda io avrò attinto così il mio fine il fine di questo seminario la mia fine anche in questo senso, no? potrei ricordare i versi famosi all'alta fantasia qui mancò possa alla mia fantasia la mia fantasia finisce qua si incarna in questo textus di cui io sono parte e responsabile al tempo stesso tutte e due ma allora ecco concentriamoci in questa lettura sarà un grosso problema anche per me e abbiamo bisogno di un grande ascolto naturalmente qui ogni parola ha un peso io non posso fermarmi su ogni parola qualche volta lo farò ma io confido che tutto quello che abbiamo detto in questi mesi tutto il percorso e tutte le tappe del percorso compresa quella cantiana eccetera eccetera in questa lettura troveranno confort troveranno la loro ragion d'essere la loro sistemazione diciamo così, no? la componente che costituisce un corpo organico un flusso organico di pensieri, di parole se ce la facciamo allora comincio questo materiale intende questo questo materiale di costruzione caotico ammucchiato ammucchiato con un impegno incredibile sorprende per la volontà di realizzarsi che vista dietro la volontà di realizzarsi che vista che cosa voglio essere che vista dietro che esso rivela teoreticamente i frammenti di questo tomo tradiscono un riflusso rispetto a quanto Nietzsche aveva scritto nei mesi precedenti in compenso vi affiora gradualmente un elemento nuovo la narrazione autobiografica non dico altro la narrazione autobiografica la documentazione personale come ingrediente filosofico come ingrediente filosofico o addirittura come risoluzione catartica è come se Nietzsche si fosse stancato di maneggiare concetti astratti lui aveva ricavato da quei gusci dei filosofi tutte le combinazioni possibili e in particolare tutti gli accostamenti più paradossali più stridenti ma alla fine i concetti erano sempre quelli non si poteva ormai o lui non poteva ricavarne altro esplorare altre sfere dell'astrazione gli parva futile forse troppo faticoso ma soprattutto ciò richiedeva troppo tempo lui ormai aveva fretta e d'altra parte gli sembrava di avere schiacciato tutte quelle noci i concetti della morale della logica della metafisica erano stati demoliti dal suo scetticismo e alla fine ne erano stati coinvolti gli stessi concetti che avevano guidato la distruzione quelli stessi lo scetticismo nicciano quello che dicevamo prima questi stessi la volontà di verità ora non dico le pagine faccio una parentesi le metterò nelle considerazioni lì vedrete come si è costruito questo tappeto di frammenti la volontà di verità punto di partenza due punti declino del valore verità dell'avvento del nichilismo uno verità del valore della verità la fede nella verità tramonto di questo valore supremo somma di tutto ciò che è stato fatto contro di esso due tramonto di ogni forma di fede tre tramonto di tutti i tipi dominanti valore il massimo quantum di potenza che l'uomo riesce a incorporare valore il massimo di quantum di potenza che l'uomo riesce a incorporare nichilismo niente sarebbe più utile più da promuovere di un coerente nichilismo dell'azione badate nichilismo dell'azione non teorico la volontà di potenza di illusione di inganno notate potenza illusione inganno di divenire e di mutare è più profonda più metafisica della volontà di verità di realtà di essere il piacere è più originario del dolore quest'ultimo è esser stesso solo una conseguenza della volontà di godere di creare di dare forma di abbattere di distruggere e nella forma più alta una specie di piacere ogni individuo ogni individuo è anche tutta la linea della evoluzione e non solo come lo concepisce la morale qualcosa che comincia con la nascita nato e antenato se egli rappresenta l'ascesa della linea uomo il suo valore è in realtà straordinario e la preoccupazione per conservare e favorire il suo sviluppo può essere estrema è la preoccupazione per il futuro che in lui è promessa che in lui è promesso cioè la fecondità del cadavere insomma la fecondità della tomba valore il concetto di azione riprovevole azione riprovevole la morale si crea difficoltà non può esserci nulla di riprovevole in sé qui è spinosa eh dietro c'è spinosa niente di tutto ciò che in generale accade può essere in sé riprovevole perché non si potrebbe non volerlo e lo sottolinea perché non si potrebbe non volerlo non siamo in grado di non volerlo perché ogni cosa è collegata col tutto in modo tale che il volere escludere qualcosa significherebbe escludere tutto un'azione riprovevole significa un mondo riprovato in generale e anche in tal caso in un mondo riprovato il riprovare stesso sarebbe riprovevole perché appartiene a tutta la catena tutta la catena è quello che deve essere il linguaggio è come deve essere le forme di vita sono come sono non sono riprovevoli non ci sono selvaggi non ci sono barbari non ci sono primitivi o se volete tutti siamo selvaggi barbari primitivi e la conseguenza di un modo di pensare che tutto riprova sarebbe una pratica che tutto afferma e di un'evidenza disarmante no? una pratica che tutto riprova e afferma che tutto riprova se il divenire è un grande anello ovviamente tutte le cose hanno uguale valore in eterno necessariamente in tutte le correlazioni di sì e no di preferire e respingere amare e odiare si esprime solo una prospettiva un interesse determinati di determinati tipi di vita c'è già tutto Wittgenstein qui dentro no? in sé tutto ciò che è dice sì e allora ciò che ci fa onore se qualcosa ci fa onore è questo noi abbiamo riposto la serietà altrove attenzione qui seguono cose fondamentali abbiamo posto la serietà altrove diamo importanza alle cose basse disprezzate da sempre da sempre lasciate in disparte diamo invece via a buon mercato i bei sentimenti qui è il platonismo perenne no? quello della nostra cultura c'è un'aberrazione più pericolosa del disprezzo del corpo questo è un tema famosissimo no? come se con tale disprezzo come se con tale disprezzo tutta la spiritualità non fosse condannata a diventare malata ai vapori dell'idealismo tra virgolette tutto ciò che è stato escogitato da cristiani e idealisti non ha né capo né coda noi siamo più radicali noi abbiamo scoperto il mondo piccolissimo come ciò che è in ogni cosa decisivo siamo in modo pericoloso nella puntino la frase non finisce dappertutto qui il repentino senso di potenza che un'idea provoca nel suo autore il senso della potenza di un'idea esso viene ascritto a valori di questa idea e poiché non si sa affatto rispettare un'idea altrimenti che dicendo la vera il primo predicato che le viene attribuito a onore è che essa è vera meraviglioso meraviglioso chiarissimo un'idea ha la sua potenza vedremo in che consiste poi questa potenza ho avuto un'idea sono tutto felice ma siccome nella mia cultura diciamo così quello che è potente è la verità non può che essere vera ciò non posso che riconoscere così ecco tutti questi santi epiletici e visionari non possedevano un millesimo di quella probità di autocritica con cui oggi un filologo legge un testo o esamina la verità di un avvenimento storico essi sono paragonati con noi dei cretini morali dei cretini morali perché noi abbiamo avuto il coraggio vedete la filologia il cammino della civiltà che non di meno viene evocato lui è un filologo dominare il caos che si è costringere il proprio caos a diventare forma a diventare logico semplice univoco matematico legge ecco questa è la grande ambizione sin qui molto ambivo volontà di potenza quanti di potenza critica del meccanicismo sbarazziamoci qui dei due concetti popolari della necessità e della legge e beh vi ricordate Peirce il primo la necessità introduce nel mondo una falsa costrizione il secondo una falsa libertà le cose non si comportano con regolarità non si comportano secondo una regola non ci sono cose si tratta di una nostra finzione altrettanto poco si conformano a una costrizione di necessità qui non si obbedisce giacché che qualcosa sia così com'è così forte così debole scusate non è conseguenza di un obbedire o di una regola o di una costrizione il grado di resistenza e il grado di prepotere di questo si tratta in ogni accadimento allora qui fermiamoci ogni accadimento è il luogo in cui si manifesta il grado di resistenza e il grado di prepotere questo e niente altro non cose ma questo in questo snodo cosa sto facendo sto agendo prepotentemente la mia parola prepotentemente ma anche passivamente perché la sua fecondità dipende da voi non da me e questo scontro questo incontro e questo nodo e questo snodo tutto ciò che c'è ora lo leggeremo in una pagina che è davvero sublime il grado di resistenza e il grado di prepotere di questo si tratta in ogni accadimento se noi per nostra utilità di calcolo sappiamo esprimere ciò che ciò in formule in leggi tanto meglio per noi qui c'è Vico eh non lo posso fare io qui si il cammino dentro Vico sarebbe meraviglioso lo facciamo nelle considerazioni questo è proprio Vico verum ipsum factum tanto meglio per noi se lo traduciamo in formule questa relazione di potenza prepotenza attivo passiva ma noi non portiamo una moralità nel mondo per il fatto di fingerlo obbediente non ci sono leggi ogni potenza tra in ogni momento ogni potenza ognuno di noi in quanto espressione della potenza ogni potenza tra in ogni momento le sue ultime conseguenze e così che accadono le cose che si passa nel sepolcro e che si rinasce dal sepolcro la calcolabilità si basa proprio sul fatto che non c'è un medius terminus una mediazione possibile tra questi due estremi perché un quanto di potenza attenzione è definito dall'effetto che esplica e a cui resiste non c'è che quantum di potenza ha detto prima bene che cosa è questa volontà di potenza quante cretinati ci sono detti sulla volontà di potenza di Nietzsche il quantum di potenza è semplicemente l'esercizio di un potere verso altri e l'esercizio di passività a partire da altri un quanto di potenza è definito dall'effetto che esplica e a cui resiste è essenzialmente una volontà di sopraffare e di difendersi dalla sopraffazione sopraffare e difendersi dalla sopraffazione attenzione sta dicendo una cosa enorme che in tutto la totalità non c'è e che non ci sono neanche le parti ci è capitato di dire che il tutto è il sogno della parte è come la frase di Heidegger sul linguaggio bello ma insostenibile perché comunque le parti sono parti di un tutto e il tutto è il tutto di una parte la relazione che pone gli estremi ma non va così non è questo ciò che veramente accade o che possiamo immaginare che accada o possiamo illuderci che accada o possiamo desiderare che accada accade un vortice caotico in cui ogni punto è la potenza che esercita e che subisce in ogni punto è il tutto ma il tutto non c'è diciamo che siamo nella posizione perfettamente bruniana il centro e periferia la periferia è il centro e non c'è altro che questo che questa esplosione infinita immaginatela come volete ma la vostra immaginazione non farà che reiterare nell'istante di questa immaginazione quello che si è appena detto una volontà di potenza ho ragione io è vero quello che dico è la resistenza il fatto che però ognuno oppone la sua resistenza dice no però guarda un momento quindi essenzialmente una volontà di sopraffare di difendersi dalla sopraffazione non c'è altro capite non c'è altro bisogna avere il coraggio di leggere questa semplice riga che giustifica perché noi qualche tempo fa dicemmo non c'è niente da sapere ma c'è certamente da fare da mettere in opera il sapere ma intendiamoci non autoconservazione questa è la critica che lui rivolgeva a Darwin non autoconservazione ogni atomo proietta la sua azione in tutto l'essere più chiaro di così non si tratta di autoconservarsi si tratta di potenza di quella potenza che si esplica tanto che non trova un incontro che la limita lo si sopprime se si sopprime questa irradiazione di volontà di potenza perciò lo chiamo un quanto di volontà di potenza in tal modo si esprime il carattere che non si può sopprimere nell'ordine meccanico senza sopprimere l'ordine meccanico stesso cioè tutte le contingenze come diciamo prima sono l'assoluto una traduzione di questo mondo in azione in un mondo visibile un mondo per l'occhio è il concetto di movimento movimento è la traduzione dell'occhio che ha la sua potenza perché segue le cose che si muovono si muovono per l'occhio non si può dire né che sia l'occhio che le muove perché non ci sono cose né che siano le cose che muovono l'occhio c'è questa relazione di potenza l'occhio l'occhio configura il mondo a partire dalla sua potenza la tartaruga configura il mondo a partire dal verde che è la sua percezione del verde vi ricordate l'esempio di Peirce qui si sottintende sempre che qualcosa viene mosso si pensa qui si tratti della finzione di un atomo o anche della sua astrazione dell'atomo dinamico si pensa ancora una cosa che agisce cioè non ci siamo discostati dall'abitudine verso cui ci sviano i sensi e verso cui ci svia il linguaggio che sono traduzioni potenti impotenti soggetto oggetto un autore del fare il fare è ciò che lo fa non mai separati non dimentichiamo che ciò designa una mera semiotica e niente di reale una mera semiotica cioè una traduzione in segni della volontà di potenza la meccanica come teoria del movimento è già una traduzione nel linguaggio dei sensi e nel linguaggio dell'uomo per poter calcolare abbiamo bisogno di unità ma non per questo è da accettare che tali unità esistano il mondo meccanicistico viene immaginato così come l'occhio e il tasto se lo possono esclusivamente raffigurare cioè come mosso in modo da poterlo calcolare in modo da fingere unità in modo da fingere unità causali cose atomi la cui azione rimane costante trasposizione del falso concetto di soggetto al concetto di atomo lui che è la causa eccetera eccetera chissà mai se uno scienziato le capirà queste righe moto occhio e tatto che ogni effetto è moto che dove è moto qualcosa viene mosso la volontà di potenza attenzione la volontà di potenza non è un essere non è un divenire divenire di ussele divenire d'artiteo ma un patos è il fatto elementarissimo da cui soltanto risulta un divenire un agire la meccanica formula fenomeni conseguenziali e per di più semiotici in termini sensibili e psicologici non tocca la reale forza causale la volontà di accumulare forza come specifico per il fenomeno della vita accumulare forza come lo specifico del fenomeno della vita della nutrizione della generazione dell'eredità quanto abbiamo lavorato su questo no? la fecondità la fecondità ciò per cui non è la sopravvivenza la sopravvivenza è un passaggio per la fecondità quindi per la volontà di potenza di generare un altro simile al 6 diceva Aristotele per la società, per lo stato, per il costume, per l'autorità non si dovrebbe poter ammettere questa volontà come causa motrice anche in chimica e nell'ordine cosmico magari non solo costanza dell'energia ma anche economia massimale del consumo in modo che il voler diventare più forte sia l'unica realtà a partire da ogni centro di energia ogni centro di energia si espande vuole diventare più forte è quello che è la vita di ognuno di noi è quello che è la vita di ognuno di noi da quando ci alziamo al mattino e poi anche mentre dormiamo la notte nei nostri sogni diventare più forte a partire da un centro di energia non la conservazione di sé bensì l'assimilazione il voler diventare padrone il voler diventare di più il voler diventare più forte che la scienza è possibile dovrebbe ciò provare per noi un principio di causalità dalle stesse cause vengono gli stessi effetti una legge permanente delle cose un ordine invariabile ma per il fatto che qualcosa si può calcolare è questo qualcosa già di necessario se qualcosa avviene così e non altrimenti in ciò non c'è nessun principio nessuna legge nessun ordine quanti di energia la cui essenza consiste nell'esplicare potenza su tutti gli altri quanti di energia nel credere alla causa e all'effetto si dimentica sempre la cosa principale l'accadimento stesso sono 40 anni che lavoriamo sull'evento questo è si è stabilito che vi è l'autore di un'azione si è ancora una volta ipotizzato che qualcosa sia stato fatto nelle situazioni di emergenza quindi ogni filosofia pratica passa subito in primo piano è la praxis appunto, come abbiamo detto morale e religione come interessi principali sono segni di uno stato di emergenza siamo in uno stato di emergenza e ci illudiamo che ci sia una providenza divina è importante è una filosofia pratica logica come volontà di potenza di autodominio di felicità volontà di potenza come conoscenza critica del concetto di mondo vero e di mondo apparente dei due il primo è meramente fittizio un mondo vero formato con cose meramente immaginarie atomi, molecole l'apparenza appartiene anche alla realtà è una forma del suo essere cioè in un mondo in cui non c'è un essere è possibile creare un certo mondo calcolabile di casi identici solo mediante l'apparvenza un ritmo in cui siano possibili osservazioni e confronto l'apparenza è un mondo accomodato e semplificato il minuere in cui hanno operato i nostri istinti pratici gli istinti pratici sono alla base della matematizzazione dei plena esso è per noi perfettamente vero cioè noi viviamo possiamo vivere in esso prova della sua verità per noi il mondo se si prescinda dalla nostra condizione di vivere in esso il mondo che non abbiamo ridotto al nostro essere alla nostra logica e ai nostri pregiudizi psicologici non esiste come mondo in sé esso è essenzialmente mondo di relazione la relazione vivente che costituisce la verità pubblica di ogni quanto di potenza determinata ha in particolari circostanze una faccia diversa da ogni punto diverso è già una faccia diversa da ogni punto ha detto prima è questa relazione di potenza in potenza che si trasmette all'infinito il suo essere è essenzialmente diverso in ogni punto preme su ogni punto ogni punto gli si oppone e queste addizioni sono in ogni caso del tutto incongruenti cioè non si tratta di addizionarle si tratta di esercitarle la misura di potenza determina quale essere ha l'altra misura di potenza la mia misura di potenza nei confronti di tutto il resto dell'universo mondo si misura con la potenza dell'altro cioè quale ha l'altra misura di potenza sotto quale forma, violenza, necessitazione esso opera o resiste, esso opera o resiste potremmo dire esso opera e resiste il nostro caso singolo è abbastanza interessante attenzione abbiamo costruito una concezione per poter vivere in un mondo per percepire appunto tanto da farcela ancora a reggere pochi mesi pochi mesi povero Nicci ho bisogno del punto di partenza volontà di potenza come origine del movimento pertanto il movimento non può essere determinato dall'esterno non può essere causato determinato dall'esterno ho bisogno di un avviamento di una provocazione del movimento come se la volontà dilagasse sempre di più noi distinguiamo noi gli autori del fare e facciamo uso dappertutto di questo schema cerchiamo un autore per ogni accadimento ma una causa non si dà affatto l'autoinganno è provato da alcuni casi in cui essa ci sembrava data e in cui noi l'avevamo proiettata da noi stessi per comprendere l'accadere per comprendere vi ricordate tutto il passaggio sulla comprensione la nostra comprensione di un accadimento consisteva nel fatto che inventavamo un soggetto che diventava responsabile del fatto che qualcosa accadesse e di come accadesse ma la cosa il soggetto la volontà l'intenzione tutto inerisce alla concezione di causa cerchiamo le cose per spiegare perché una cosa sia cambiata lo stesso atomo è l'addizione mentale di una si fatta cosa e soggetto originario alla fine comprendiamo che le cose e quindi anche gli atomi non producono affatto effetto alcuno perché non esistono non esistono affatto che il concetto di causalità non serve assolutamente a niente da una successione necessaria di stati non segue la loro relazione causale l'interpretazione della causalità è un'illusione non è un male, è un'illusione il moto è una parola, il moto non è una causa una cosa è la somma dei suoi effetti sinteticamente collegati da un concetto da un'immagine ma non ci sono né cause né effetti linguisticamente non sappiamo liberarci e già se parliamo parliamo di cause, di effetti, di sostanze, di cose, di concetti ma ciò non vuol dire nulla se penso il muscolo separato dai suoi effetti lo nego insomma un accadere non è né causato né causante l'in sé come concezione è addirittura una controsenso una conformazione in sé è un'assurdità noi abbiamo il concetto di essere di cosa sempre e solo come un concetto di relazione è di cardinale importanza che si abolisca il mondo vero è esso che crea i grandi dubbi e che diminuisce il valore del mondo che siamo è stato finora il nostro più pericoloso attentato alla vita guerra a tutti i presupposti in base ai quali si è creata la finzione di un mondo vero uno di questi presupposti è dato dal considerare i valori morali come valori supremi e infine me lo sono ottenuto anche se accade molto prima come conclusione ma qui non c'è un esso logico come si vede in questo libro il pessimismo anzi a parlare più chiaro il nichilismo è ritenuto essere la verità ma la verità non è considerata come un supremo criterio di valore e ancora meno come suprema potenza è il risultato di tutto questo tema la volontà di parvenza la volontà di illusione la volontà di inganno di divenire di mutare è considerata qui più profonda è più originale più metafisica per così dire della volontà di verità di realtà di essere e anche quest'ultima è essa stessa solo una forma della volontà di illusione riuscire a stare al mondo il che significa che la volontà di potenza stessa è una forma di volontà di illusione non una dottrina come si è sempre letto non si sa bene perché non in questo senso una filosofia una metafisica piuttosto come aveva detto Nietzsche un estremo tentativo di sopravvivenza dell'uomo Nietzsche giunto all'estremo sull'orlo della catastrofe e forse della stessa filosofia insomma alzospraxalatustra facciamo la pausa qui partiamo con chiedici una parola perché dopo lo stai a tutti ok 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 riprendiamo allora prendo spunto da un ultimo tocco da uno degli ultimi tocchi i sensi e il linguaggio non possiamo prescindere dai sensi e dal linguaggio sono il luogo delle nostre illusioni ma le nostre illusioni sono la nostra potenza i sensi e il linguaggio cioè gli organi naturali dicevamo in altri contesti e gli organi sociali entro i quali a partire dai quali ogni accadimento è tutta la catena questo va tenuto molto fermo ma va pensato bene ogni accadimento cioè non io non tu ma quel che accade in questo momento è tutta la catena ma articolata nei corpi separati che ognuno di noi è quindi è tutta la catena in questo snodo in cui si decide della catena proprio si decide nel senso della parola decidere separare e congiungere qui accade la relazione vivente qui si pongono appunto i termini in relazione ma si pongono sulla base di una illusione che è la somma potenza pratica di ogni accadimento in ogni punto c'è una diciamo espansione all'infinito diceva Nietzsche no? c'è un'espansione infinita ma in ogni punto per ogni punto cioè in ogni punto nella sua potenza e nella sua impotenza nel suo fare subire non accade mai altro in sostanza un estremo tentativo di sopravvivenza diceva Nietzsche noi siamo entrati nella nona trama non vi ho avvertito all'inizio avrei dovuto farlo la nona trama gli ho dato questo titolo la potenza adesso si capisce bene perché è il suo destino e quello che ci resta da fare stasera beh anzitutto direi una riflessione sul textus il textus è appunto quell'accadimento che in ognuno di noi riassume tutta la catena e si espone nella sua potenza e nella sua impotenza nel suo aver vita e morire e morirci dentro si potrebbe dire no? ma questo passaggio all'etica come l'abbiamo chiamato guardate ci siamo solo affacciati questo deve esserci chiaro ci siamo solo affacciati c'è ancora tutto da fare c'è ancora tutto da costruire una volta affacciatici a questa prospettiva che abbiamo motivo di dire certo è di Nietzsche certo è di Peirce certo è di Husserl certo è di ognuno di noi certo anche no in questo senso l'immagine del textus dal quale quando siamo partiti non era possibile dire che cosa avevo in mente dicendo textus tessuto trama e questo inizio aveva già questa conclusione nella sua potenzialità almeno nelle mie intenzioni cioè scontava già questo confronto laddove si diceva di una fine di un fine ciò che voglio essere ciò che voglio che qui accada ciò che voglio che sia nella infinita totalità e nella infinita limitazione nell'assoluto e nella contingenza è la mezzanotte della fenologia dello spirito per certi versi no? laddove tutto il cammino si riassume in una soglia e in una differenza ecco tutto tutto questo cammino di cui stasera abbiamo visto soltanto l'esordio un esordio che vedete non ha più testi nel senso di opere in sé autori in sé ma questo l'abbiamo imparato da tanti compagni di strada no? quindi un cammino che ha abbandonato tutte le illusioni del soggetto, dell'oggetto, della verità dell'assoluto, del relativo della causa diceva Nietzsche no? e degli effetti giunti su questa soglia dovremmo fare molto lavoro che ora non possiamo fare perché ora abbiamo un compito però un impegno perché se siamo di fronte all'ultima figura della potenza ecco noi l'affronteremo per comodità di esposizione perché ci rimane da dire cos'è sta verità pubblica il textus è la verità pubblica come concepire quindi la verità pubblica con tutto quello che ne abbiamo detto è vera, non è vera è una verità vivente quindi è transitoria quindi diceva Peirce appunto è fallibile però c'è è in sostanza la verità di tutto il reale che è vissuto qui in questa contingenza che qui diventa absolutus sciolto da questa contingenza perché c'è tutto non c'è altro da aggiungere c'è il cadavere e il sepolcro e quindi la mezzanotte e quindi la potenzialità dell'aurora la potenzialità di una interpretazione vivente di una parola che reincarna e ogni parola fa questo questo è quello che ci aspetta ogni parola fa questo reincarna ridà vita a tutta la catena di cui quella parola è una apparizione diciamo così una manifestazione proprio nel senso della lezza idegheriana se volete ecco noi dobbiamo svolgere questa parte di cammino ora da qui alla fine e allora io adesso spiego perché ho detto la potenza e il suo destino perché ora noi faremo della potenza questa ultima figura per questo io uso la parola potenza perché dietro c'è l'eco di Nietzsche liberato dalle fantasie che quella sia una dottrina della volontà di potenza avete capito molto bene il coraggio la grandezza di questa visione no che non intende fare un'altra metafisica accanto alle metafisiche no o di dire la verità del mondo ben altro la situazione dell'essere umano ecco attraverso questa figura della potenza associarvi la figura dello spazio dello spazio come aver luogo della potenza lo spazio come aver luogo darsi luogo della potenza cioè del nostro spazio di vita in sostanza riassumendo tutto il cammino di un'ora fa l'intero spazio di vita lo spazio come aver luogo adesso si capiamo bene del progetto e del suo destino ma ben inteso qui è sono sottili le cose sono diventate difficili non del mio non del tuo non del suo di nuovo aveva ragione perso no quando diceva che la verità non era la mia la tua la sua però lui diceva è del pensiero in generale traducendolo nei termini che qui ci sono diventati familiari porta con sé tutto il processo e tutto il processo che prende voce in questa voce in questo corpo in questi organi naturali che sono anche organi sociali nella loro illusorietà di determinatezza no di fissazione allora è così che cosa si è detto questa sera ma quello che si è detto questa sera sta nell'altra sera cioè nel fatto che questa domanda apre alla risposta e quello che è detto questa sera ha la sua potenza in quello che si dirà di questa sera e a sua volta eccetera la situazione si replica in una espansione infinita come vedeva allucinatoriamente il nostro Nietzsche dove ogni confronto ogni incontro e ogni scontro è tutta la catena ma sono tutte tutte le catene sono tutte le catene e tutte le catene si inglobano l'una nell'altra in una irradiazione infinita si potrebbe dire bisogna porsi all'altezza di questa visione porsi all'altezza di questa visione non è affatto facile e forse non è nemmeno possibile bisogna rassegnarsi al fatto che appunto sto parlando sto traducendo nei segni del linguaggio che mi è consuetudinario che mi è possibile che mi è attuale l'intraducibile che però non è l'intraducibile nel senso dell'assoluto intraducibile è l'intraducibile che è sempre tradotto per questo dicevo sapere assoluto sciolto dalle sue contingenze dalle sue figure perché è tutte le sue figure in ogni momento e non può che essere quelle figure e non può come dire avere rimorso di quelle figure aveva ragione inizia in questo seguendo spinosa che finalmente ci siamo liberati del peccato non perché questo non non ispiri in noi doveri sentimenti passioni certo ma nella totalità di questo avvenire o nella immaginaria catena reciproca non c'è responsabilità alla fine non c'è nessuno che ti può giudicare se vuoi dire così e non ti puoi giudicare neanche tu perché il tuo giudizio è un altro processo della catena è un nuovo procedere della tua potenza i tuoi rimorsi sono la forza della tua capacità di sopravvivere disegnano un nuovo luogo un nuovo dove allora cerchiamo di ridire tutte queste cose in ordine al problema appunto della potenza dello spazio dell'aver luogo del destino come non a trama insomma presupposto di tutti i presupposti proviamo a parlare così a dire così ma il presupposto di tutti i presupposti i nostri padri l'hanno detto lo dico con l'espressione di uno dei più recenti cioè in der Weltsein in der Weltsein il presupposto di tutti i presupposti è essere nel mondo ma sempre nella figura noi aggiungeremmo della verità pubblica che è ora il nostro nodo il nostro problema cioè diciamo così di una esposizione o locuzione sapiente siamo nel mondo in una locuzione sapiente siamo nel mondo e c'è parte ormai abbiamo imparato questi giochi di discostamento non possiamo toglierci i vestiti ma possiamo capire che sono vestiti l'essere umano non è mai nudo appunto perché dice nudo però non può che dire insieme l'evento del dire l'accadimento del dire può essere tenuto in sospensione quanto alla sua illusione e quindi possiamo dire siamo nel mondo nella figura come qui diciamo della verità pubblica cioè nella nella espressione di tutte le sapienze di cui disponiamo di una espressione che è una locuzione sapiente verità pubblica certo Omero non parlava così e non so come si potrebbe tradurre in scrittura giapponese o cinese dove la parola verità non c'è un'interpretazione di Fenollosa era che il geroglifico che noi traduciamo con verità volesse dire sperduto nel bosco era una lettura molto idegheriana mi pare sperduto nel bosco quindi noi siamo nel mondo come diciamo perché non abbiamo altra lingua che questa in una locuzione sapiente che è collocata nella circunstancia del nostro axis terre ricordo l'axis terre che abbiamo esaminato tempo addietro dice che niente può accadere che non sia in un momento determinato della vita di questo pianeta deve essere giorno deve essere notte non può essere altrove che in un momento determinato della vita di questo pianeta non può che accadere questo axis terre non può che comprendere la vita vivente di colui che è in quel momento presente cioè la sua età tutto ciò che accade nell'axis terre non può che avere l'età di colui a cui accade non accade genericamente all'uomo ma un uomo di tre anni di trent'anni di centoventi anni quando va bene o quando va male e infine che non può accadere altrimenti che in una cultura determinata di quel vivente questo è come dire un orizzonte una cornice entro la quale non possiamo esimere di sentirci collocati chi parla dove parla quando parla a che età parla con che lingua parla compreso l'axis terre tutto ciò che a sua volta accade eccetera 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 allora quando noi diciamo il presupposto di tutti i presupposti è l'essere nel mondo l'intervelle design ecco questa figura della verità pubblica è collocata nella cultura dell'axis terre che ci riguarda in questo senso è verità pubblica è quella di cui disponiamo qui dove accadono i nostri progetti e dove articoliamo i nostri progetti con i nostri ricordi in questo fatti specie i ricordi della filosofia perché siamo nel seminario di filosofia e siamo nell'ambito della volontà di formazione di Mekri quindi l'allusione il presupposto che qui viene alluso per noi che la intendiamo questa presupposizione appunto no per noi che ne abbiamo la lingua non per tutti questa presupposizione è che può non esserci non si può essere vivi non può essere non può capitare di essere al mondo se non in questa figura del sapere eccetera ma che questo non è qualcosa di reale il qualcosa reale qualcosa che sta indipendentemente dall'axis terre appunto ma dalla sua interpretazione sta in relazione alla sua interpretazione declinata nella sua interpretazione tradotta come diceva arduino tradotta ogni conoscenza ogni comprensione si traduce tradotta nella sua interpretazione di cui è parte costitutiva l'axis terre e tutto quello che ho detto che è il presupposto per noi incomprensibile perché siamo tutti questa catena noi qui quindi non dubito che in generale ci capiamo poi ognuno se lo articola a modo suo ha il suo axis terre e ha la sua catena ma certo se io parlassi così a un cinese è dubitevole che mi capirebbe capirebbe niente perché non ha il luogo non ha lo spazio entro il quale collocare queste espressioni e devo aggiungere però questo non è tutto stiamo camminando questo verso questo non è tutto quindi noi siamo al mondo non come a qualcosa di reale ma nel sapere di parola dove reale è un esempio con una pretesa universalizzante e io direi qui userei questa nuova espressione che è un po' ambigua con la sua parola e con l'aura semantica semantica della parola mi piace o non mi piace perché semantica non va tanto bene dice già ha già deciso piacerebbe molto a Quine però in qualche modo bisogna pur dire ecco mi giustifico così e dicendo aura semantica intendo dire l'interpretazione che è messa in opera dalla potenza di questa parola la potenza di questa parola è produttiva è efficace è generativa aura semantica l'aura semantica dei vocaboli insomma ecco veniamo al punto nella nel cartiglio 21 parlammo a proposito delle parole della loro inerzia storica e la paragonammo l'inerzia storica degli strumenti anche la parola è uno strumento anche la parola è uno strumento esosomatico noi diciamo sempre esplode là fuori si incarna all'interno del locutore attraverso le risposte degli altri quindi anche la parola diciamo così ha una persistenza così come ha una persistenza il legno l'acciaio la carta il papiro quella che ha c'è una persistenza storica delle parole una inerzia storica che si trasmette nel tempo e nello spazio però che cosa propriamente si trasmette in questa inerzia storica dei vocaboli l'aura semantica dei vocaboli e i vocaboli non ci sono se ci fossero i vocaboli avrebbe ragione Quine esiste quindi una logica proposizionale eterna universale di tutti gli esseri umani ma non c'è perché i vocaboli non esistono sono una costruzione storica dell'occidente che ha le sue ragioni che ha i suoi motivi tutta la catena dell'occidente ecco però c'è qualcosa qui che non riusciamo ad afferrare in questa inerzia storica dei vocaboli in questa semantica dei vocaboli che è la loro inerzia storica c'è qualcosa di molto di più dei vocaboli vocaboli è detto male e però è l'unico modo che abbiamo noi di dirlo e quindi in questo senso è detto bene è la nostra contingenza e sulla base di questa eredità badate ora vediamo una cosa molto caratteristica è proprio sulla base dell'inerzia storica dell'aura semantica dei vocaboli che noi possiamo stabilire relazioni con il passato e con il presente di forme di questa nostra verità noi parliamo appunto no Machiavelli parla con gli antichi usando le parole latine la loro inerzia storica la loro aura semantica che ovviamente per Machiavelli non è mica quella di Virgilio di Orazio men che meno è greco c'è e non c'è questa aura semantica dei vocaboli insomma funziona come un talismano forse così correggiamo un po' l'immagine non esatta di semantica è un talismano è un espediente per scoprire per scoprire che cosa diceva in verità Orazio ma così che cosa faccio io? Rendo retrofressa la mia sapienza verbale la mia loquela rivivendo il passato alla luce di questa retrofessione e badate questo che faccio con il passato continuamente se no non avrei il passato e non avrei niente da dire del passato illudendomi che sia lui che parla sappiamo no? illudendomi che io vi ho letto l'ipsissima verba di Nietzsche figuriamoci non sarebbero state più l'ipsissima verba di Nietzsche se neanche lui le riconoscerebbe una volta rinato per ipotesi perché già sarebbe diverso quindi sulla base di questa eredità retroflessa noi non soltanto ci apriamo la strada alla comprensione del passato non a rivivere davvero il passato lo facciamo rivivere attraverso questa comprensione gli diamo nuova carne lo accogliamo in nuove circostanze è un nuovo nato non è l'antenato e lo stesso accade se io cerco di spiegare a voi lo faremo più avanti questo esempio che cosa significano quelli che io chiamo i vocaboli ma loro no di altre culture di altre lingue anche contemporanee faremo l'esempio dell'igloo l'igloo eschimesi che noi traduciamo casa ecco bisogna guardare questo intreccio come sempre presente sempre attivo nella sua contingenza che sfuma che si allontana che produce si riproduce è quello che accade sempre quando parlo riattivo questa catena di tradizioni nella incarnazione attuale e quindi prendo conto rendo conto della sua consistenza della sua tradizione della sua forza della sua inerzia ecco facciamo l'esempio di igloo igloo noi lo traduciamo casa soffermiamoci un attimo su questo esempio la relazione semantica è stabilita evidentemente sulla base di pratiche di vita sono pratiche di vita potremmo dire che sono diffuse quantomeno diffuse in un certo periodo a partire da un certo periodo della esistenza umana sul pianeta dell'uomo più arcaico più antico dell'uomo che non aveva casa se non nelle caverne ecco non si può dire che esistesse già la parola casa nel senso in cui ma da un certo momento in avanti gli esseri umani hanno costruito delle case diciamo noi abbiamo visto quanto è complicata questa faccenda quest'anno appunto con il problema dell'architettura ne abbiamo sentite di tutti i colori è stato molto bello molto bello capire che cosa fa l'architettura che cos'è l'architettura quello che è certo che quando noi traduciamo igloo con casa testimoniamo due cose una l'ho già detta che c'è una continuità di forme di vita di pratiche di vita se le volessi descrivere direi c'è un luogo costruito dalle mani dell'uomo dentro il quale si va ad abitare a dormire a mangiare e questo è un aspetto una connessione di comunicazione verbale con le pratiche di vita ma queste sono ogni volta quello che sono è vero che sono inserite in una continuità che giunge sino a noi evidentemente ma è vero che anche sono contingentemente quello che sono e questa continuità adesso va guardata bene come so io che igloo vuol dire casa e beh mi informo no? ma qualunque sia lo strumento di cui mi servo da andare in internet a prendere un vocabolario eccetera eccetera è evidente che lì io faccio uso di tutta una catena di una catena sterminata che io non devo dimenticare di cui non mi importa nulla di ricordarmi quando la uso ma di cui sarebbe molto grave se io lasciassi questa illusione dell'uso da se stessa senza l'accompagnamento del suo fantasma il suo fantasma si dice presto a partire da tutti coloro che tradussero igloo in una qualche lingua che tradutta nella mia lingua si dice casa non posso dimenticare tutta questa catena perché questo che vuol dire casa nel senso dell'igloo che non è il senso dell'igloo ovviamente no? dell'igloo prima di essere tradotto è così se noi guardiamo questa continuità di traduzione e questo esercizio della traduzione in ogni contingente modo del suo esplicitarsi proprio nei luoghi in cui si è verificato nelle pratiche di vita in cui è stato necessario c'erano dei viaggiatori che si sono incontrati con gli eschimesi e questi dicevano a modo loro igloo e poi si sono intesi con gesti insomma c'è tutta questa catena poi sono tornati l'hanno scritto hanno creato un vocabolario ma ogni volta in una pratica di vita determinata che è quella lì non è un'altra non è la verità di questa catena è il farsi vero di questa catena è il produrre continuamente verità pubblica in movimento in questa catena se non vedo questo non vedo niente sono cieco sono assolutamente abbacinato dalle parole che peraltro devo usare non posso che usare sensi e linguaggio quindi devo avere presente tutta questa catena perché è in questa catena è soltanto per questa catena che si stabilisce se riesco a farmi capire l'aura semantica dei vocaboli l'aura semantica è questo cammino che sta continuando anche qui gli eschimesi non lo sanno ma mi sta vedendo un suono all'orecchio qualche d'uno ha detto igloo chissà come lo dicono loro non ne ho la minima idea l'aura semantica quindi non è un mistero non è un miracolo non è l'essenza del linguaggio umano come pensano i logici formali o proposizionali questa catena di accadimenti e questa catena di catena di potenze di potenze che intendono impadronirsi e trasmigrare trasmettere, tradurre trasformare e questo qualcosa di universalizzante in comune che prescinde dalle differenze questo funge di base per ravvisare la catena l'aura semantica si trasmette ma si trasmette nelle differenze continue che vengono dimenticate che vengono praticamente dimenticate perché se ogni volta io dovessi andare a esaminare rianimare rimemorare la grande catena semantica l'aura semantica che mi consente di dire igloo vuol dire casa sto fresco me lo dimentico non ne faccio uso non mi interessa non mi importa e sono nella tentazione di dire questa è la verità è vero che igloo vuol dire casa e badate ho le mie ragioni le mie ragioni sono legate alle mie forme di vita all'axis terre alle contingenze alla verità pubblica di questo momento di questo periodo al fatto che poi cosa vuol dire casa rispetto a maison rispetto a house rispetto ai linguaggi indoeuropei non finiamo mai no? ma intanto devo sopravvivere per dire così no? la faccenda è molto 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 complessa va lasciata nella sua complessità va avvistata nella sua transitorietà sapendo che così per esempio procede la conoscenza del passato nessuno di noi ma nemmeno di loro dico degli eschimesi può rivivere l'esperienza abitativa dell'igloo di 3000 anni fa nessuno quella è morta sepolta perduta però ha lasciato segno igloo è un esempio quindi quindi noi la immaginiamo in base all'aura semantica stabilita dalle affinità di pratiche di vita abbiamo detto con le relative differenze di traduzione linguistica sapendo che la traduzione è conoscenza come abbiamo imparato da arduino e qui ravvisiamo una cosa che già abbiamo detto un'ora fa l'immane potenza del discorso come traduttore universale l'immane potenza del discorso come traduttore universale c'è una traduzione che sta nei sensi negli organi naturali come diceva Darwin e come diceva Marx in quelle immaginazioni preverbali di cui parlavamo prima ma poi per fortuna nostra o per sventura nostra fate voi direi tutte e due insomma no? e si sono tradotte certamente in quella traduzione universale che è il discorso nel suo accadimento particolare ogni volta quello che è e allora ecco che potremmo riassumere questo primo passo così le parole o per dire più prudentemente i discorsi che discorrono proprio nel senso del discorrere traghettano sono questi che traghettano le figure della verità della verità vivente quella che per me è indiscutibile che il glu vuol dire casa ne sono certissimo me ne posso dare le prove ecco il discorso con il suo complesso gesto espressivo che non tace mai traghetta le figure della verità attraverso la continua trasformazione delle forme di vita e delle pratiche di vita divenire racliteo diceva Wusser dove però non bisogna affezionarsi al divenire diceva Nietzsche né essere né divenire ma potenza diffusione espansione così potremmo appunto dire il gesto espressivo del discorso trasmette traduce l'aura semantica della traduzione discorsiva della potenza discorsiva però attenzione abbiamo detto molto poco anche qui ci siamo affacciati ci siamo affacciati su un grande problema dovremo analizzare in futuro come accadono questi discorsi ai quali abbiamo attribuito la responsabilità di traghettare discorsi cioè cosa intendiamo con questa ultima parola con questo ultimo come nascono i discorsi da dove nascono i discorsi cosa sono i discorsi dovremo analizzare questa pragmatica della parola discorso la sua retorica come diceva Nietzsche la sua prosodia la sua grammatica dicevano i teorici medievali che usavano la parola grammatica in un senso molto diverso da quello nostro moderno questo è un argomento che qui non può che tacere perché è immenso voi capite che noi dobbiamo proiettarci con questi ultimi risultati con le parole che il tempo ci diè ai primordi dell'umanità a comprendere come noi possiamo comprendere traducendo e non essendo in un sapere adeguato per noi e transitante per altri come concepire sto discorso di cui continuamente parliamo non che cosa è ma come alla luce dei suoi effetti che noi siamo possiamo ricostruire in un sapere della mezzanotte pronto a morire i suoi segni quei segni che non sono la cosa diceva Nietzsche no? ma che sono il sapere della cosa che sono quel sapere che possiamo costruire noi è tutto da fare non illudiamoci perché abbiamo detto queste poche cose che tutto è a posto no, tutto comincia cosa che qui non possiamo fare ma abbiamo qualche altra cosa da fare stiamo vedendo meglio come cammina la verità vivente quella che abbiamo chiamato verità vivente cioè come camminano le trascrizioni le traduzioni le interpretazioni viventi cioè emergenti in mondo vissuti in mondi vissuti come reali è reale che esistono gli eschimesi è reale che loro usano una parola del loro linguaggio che si suona iglu chi sa come suona ma sono più o meno è reale che vuol dire casa perché è vero è vivente in questo axis terra non possiamo dire altrimenti io non posso levarmi dalla testa quelle verità che sono il fondamento stesso del mio interpretare cioè del mio poter vivere del mio poter esercitare la potenza di vita l'essere al mondo appunto l'essere nel mondo queste figure l'abbiamo visto a suo tempo della verità pubblica alla quale tutti noi partecipiamo ognuno a modo suo sono poi delle stratigrafie sono dei mosaici di saperi sono dei mosaici di abiti d'azione e già perché noi qui in questa stanza tutti in quanto soci di Mecree o amici di Mecree abbiamo in comune molte cose che non abbiamo in comune con tante altre persone del nostro mondo la cui stratigrafia è molto diversa e non capirebbero una parola di quello che diciamo qui purtroppo ma anche per fortuna mosaici di sapere che sono che cosa c'è nella nostra presente che cosa è l'axis terra di questo momento e ogni volta bisogna precisarlo non c'è l'axis terra non c'è non illudiamoci ad avere raggiunto una verità assoluta no, l'axis terra è quello che è per quel giorno, quella notte, quell'età, quella cultura e quindi qui per me, qui per voi qui per i giapponesi, qui per gli eschimesi che sono in tutt'altro, in tutt'altra stratigrafia espressiva in tutt'altro i saperi e che sono però parte della verità pubblica perché in qualche modo influenzano ai confini di questo orizzonte immaginario influenzano anche me anche ognuno di noi perché le cose appunto transitano mutando e mutando cambiano la fisionomia dell'intero il potere invisibile degli intrecci per cui uno va a visitare gli eschimesi e cambia totalmente idea su quello che prima pensava degli eschimesi di se stesso, della casa, eccetera, eccetera e questa stratigrafia è parte essenziale di quello che noi chiamiamo la nostra verità pubblica quella che non possiamo non credere vera perché pensiamo che sia tutto il reale che c'è e pur avendo messo in una crisi definitiva queste nozioni prese come assolute vediamo con chiarezza che le dobbiamo frequentare che non possiamo che frequentarle che continuiamo a frequentarle che mentre dico questo le sto frequentando sto dicendo quel che è vero in verità per me e quel che è reale per me non ho alcun dubbio non posso avere dubbi come diceva Peirce in un passo formidabile non posso dubitare di ciò di cui non dubito si riferiva a Cartesio dubita di tutto e come faccio? non posso dubitare di tutto perché io sono tutta la catena vedete la fecondità di queste parole che abbiamo letto di questo textus che si è snodato davanti a noi in questa maniera enigmatica sono tutta la catena e quindi io non posso prescinderne e nello stesso tempo però mi illudo se mi aggrappo mi aggrappo a quel che non ha consistenza mi aggrappo alla soglia della porta che non c'è è sempre in un transito dal di qual di là o è di qua o è di là o meglio è tra qua e là ma non è e nemmeno diviene perché la soglia non diviene è immobile è inesistente è solo transitante transitabile è soltanto l'effetto vi ricordate le ultime riflessioni del testo nicciano sul movimento e sul mosso è soltanto l'occhio che muove che passa le soglie del movimento ma il movimento attraversa soglie che non ci sono che sono poste in atto dal movimento che dice prima ero là adesso sono qua e in questo modo il là e il qua sono l'effetto di una potenza attiva pragmatica pratica diceva Peirce no ma lo diceva anche Nietzsche quindi così cammina la verità vivente delle nostre interpretazioni delle nostre trascrizioni emergenti mondi vissuti come reali che si traducono in figure contingenti in stratigrafie in mosaici di sapere mosaici di sapere sono mosaici di abiti d'azione evidentemente sapere quel che fai luoghi e occasioni del transito della inafferrabile e inarrestabile dinamica delle esperienze di vita reali le esperienze di vita cosiddette reali sono questa inarrestabile dinamica questo inarrestabile luogo e aver dove e come pensiamo questo aver luogo e aver dove ma evidentemente lo pensiamo nell'unico modo che qui sta emergendo dalle stesse parole di Nietzsche confortato da quelle parole come trascrizione autobiografica come autobiografia in atto autobiografia nell'esercizio della sua volontà di potenza diceva Nietzsche no? autobiografia che non vuol dire l'autobiografia le biografie no vuol dire tutta la catena che si espone nell'istante dell'accadimento dell'esercizio della sua volontà di potenza che si scontra con le altre volontà di potenza che in questo scontro determina appunto un accadimento un effetto inarrestabile un effetto inarrestabile perché produce appunto effetti e in questi effetti c'è ogni volta la vita in fin di vita abbiamo già usato questa espressione ogni interpretazione nel momento in cui accade questo si confronta con le volontà di potenza estraneo nella separazione della strozzatura dei corpi dei viventi schegge della specchio di Dioniso nel momento in cui accade questo abbiamo degli effetti inarrestabili che sono la morte di quella contingenza e l'apertura alla possibilità di una nuova interpretazione cioè alla possibilità della ricostituzione della contingenza in una nuova figura della volontà di potenza quindi la verità si conserva e si traduce in questo piacere della comprensione e questo piacere della comprensione che sconta l'essere in fin di vita di ogni sapere e però vi ricordate certe parole che abbiamo letto in Nice la felicità la gioia ma anche il contrario si potrebbe dire il sapore della verità ma il giovane Nice l'aveva già detto il sapore della verità non il sapere, il sapore nel sapere della verità che mi è possibile nella mia contingente interpretazione, traduzione e trascrizione accade il piacere della comprensione che muore lì col suo sapore col suo profumo col suo odore col suo corpo vivente con la sua sensualità e transita trapassa istituisce cioè istiga nuove interpretazioni ecco bisogna guardare questa esperienza di transito come c'ho questa esperienza di transito proprio qui questa esperienza di transito è qui, è qua transita qua ora, adesso bisogna considerare questa esperienza di transito come ciò che conserva tutta la sua pretesa di verità tutta la sua pretesa di oggettività di universalità di conformità con ciò che si suppone reale nel momento ecco nel momento in cui la sua espressione affida il suo ultimo senso al suo destino ecco perché potenza e destino sic transit veritas mundi al suo destino cioè come aveva detto bene Peirce a quel che ne faranno gli altri a quel che se ne farà poi a quel che io stesso redivivo ne farò poi domani, dopo domani l'anno prossimo quindi diciamo questa pretesa di verità di oggettività che è in ogni espressione della volontà di potenza contingente qui si incarna la mia proposta in cui si concentra tutta la mia provenienza ora è reinterpretata e ritradotta tutta la mia catena diceva Nietzsche che non è mia naturalmente no? sono io che sono suo con l'impulso di dominazione con l'istanza di futuro che sostanzialmente la muove e come dicevamo prima di questo impulso di potenza io non sono il giudice non posso essere il giudice quando ne fossi giudice non sarebbe altro che la reiterazione di questa volontà di potenza avevo ragione io ho sbagliato accidenti mi pento profondamente non mi pento affatto ecco questo impulso di potenza non chiede giudizi perché si potrebbe usare una bella espressione hegeliana nel momento in cui mi metto all'altezza del textus con tutto ciò che ha comportato questa espressione quest'oggi e sin dall'inizio questo scorrere di parole, di voci, di suoni, di odori, di profumi di contingenze di parti piccole della vita piccola quotidiana diceva dice no del corpo, delle sue emozioni, dei suoi umori quando mi metto a questo livello e incarno questo livello e so di essere assolutamente questo livello a me non resta diceva Hegel che il puro stare a vedere quello che stiamo facendo il puro stare a vedere di quello che ci sta incredibilmente accadendo che sta incredibilmente accadendo a me e a ognuno di voi in questa stanza, in questo giorno, in questa ora dell'Axis Terra in questa cultura in questo destino diceva Orfeo ricordato da Tommaso di Dio contributi memorabili per noi di Mecrimi a che ronta muovevo, no? a che ronta muovevo cioè andrò al fondo della notte Scusate 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 Speriamo che non muoio Non dovevo toccare Orfeo Dunque a che ronta muovevo vado al fondo della notte vado al fondo dell'oblio per ridare vita a Euridice la mia anima ma sappiamo che ravvisarla saperla la riconsegna la morte però Orfeo non può continuare non può che continuare a fare questo o meglio ognuno di noi non può che continuare a fare come Orfeo non può che insomma entrare nella metamorfosi del suo transito e tradurlo in una sorta di passaggio all'etica cioè questo è ciò che è da fare questo è il mio destino è il destino della lingua italiana è il destino della filosofia italiana della poesia italiana ma anche della poesia greca ma anche della poesia classica ma anche di tutti i traduttori di tutta la catena delle interpretazioni di Orfeo Euridice e la musica e le opere non posso che essere questo insomma ecco questo passaggio all'etica dove non c'è giudizio ma c'è il puro stare a vedere rivadisco attenzione ai lacciuoli non c'è giudizio ma puro stare a vedere nel giudizio perché non possiamo non giudicare non possiamo non giudicarci non possiamo non dire bene male buono cattivo bello brutto vivo morto ma possiamo però accompagnare questo esercizio della potenza nella comprensione della sua illusorietà transitante del suo valore di trasmissione non nel suo valore di fermata e Euridice non è mai morta e non è mai rinata e tutte e due è morta e rinata ecco qui accade il destino del transito della verità come mia realtà che però appunto nel momento in cui vuole resuscitare l'anima la perde la perde ovvero la trasmette il gioco si riapre e allora la vera domanda che abbiamo adesso e forse possiamo fare qui una seconda pausa più breve magari la questione che poniamo qui è da questo spuro stare a vedere la metamorfosi nel suo transito anche in ognuno di noi naturalmente questo puro stare a vedere da questo puro stare a vedere che noi abbiamo chiamato passaggio all'etica è possibile trarre una politica è possibile trarre un'economia ho detto in altri modi come forse riprenderemo più amanti in altri momenti che non quest'anno quale casa per questi umani quale destino per questi umani che sono arrivati a questa figura del sapere con tutta la sua relatività e la transitorietà e il suo oscillare tra Euridice morta e Euridice rinata nei saperi transitanti che sono tutta la verità di cui disponiamo poveri noi e tutto il reale di cui facciamo conto poveri noi ma frequentandolo attivamente quindi mettendoci in gioco e mettendolo in gioco e quindi in questo modo creando letteralmente un'economia un oikos una casa un luogo dove abitare e quindi una politica nel senso più ampio della parola e quindi appunto quale casa e quale destino per l'uomo che è arrivato qui per noi anzitutto e come come immaginare la sua transizione la sua transazione la sua ostinazione la sua pervicacia la sua costanza nel dialogo con le altre forme di volontà di potenza che abitano questo pianeta come noi diciamo noi loro chissà cosa dicono ma ormai studiamo questa cosa a suo tempo ormai non possono esimersi neanche loro dal confronto con noi la nostra verità è diventata troppo potente il che non significa vera il che non significa reale ma potente sì e questo ancora non abbiamo visto bene perciò facciamo una pausetta e poi quindi tireremo le conclusioni su quest'ultimo passaggio allora credo di potermi esprimere adesso un po' sinteticamente abbiamo lavorato molto e direi così ogni azione in quanto è una pratica finalizzata abbiamo capito è un progetto come ogni pratica ogni pratica ha il suo fine ha la sua memoria e il suo ricordo ogni azione in quanto pratica focalizzata focalizza appunto stabilisce un focus che include trascurando e include escludendo qui vi ricordo una nozione che sviluppammo molto molto a fondo nel seminario in cammino verso il monte ida che è poi apparso dal ritmo alla legge sempre a cura di Florinda Cambria per la IACA Book nel 2019 lì parlammo moltissimo della persiana di Peirce insomma precisio la precisio cioè il fatto che taglio via escludo e includo mi oriento focalizzo ecco era già una intuizione fondamentale perché il pragmatismo di Peirce o meglio il pragmaticismo di Peirce aveva anticipato moltissime delle cose che stiamo dicendo ogni azione focalizza cioè trascura è quello che sto facendo qui è quello che facciamo sempre no? ci andiamo a prendere il tram non stiamo a guardare i negozi se guardiamo i negozi non ci interessa nulla che il tram sta passando ma attenzione questa versione alla Peirce ha il suo equivalente proprio in Nietzsche nel Nietzsche della seconda in attuale l'ingiustizia di ogni fare l'ingiustizia di ogni interpretazione la necessità di ogni fare di ogni interpretazione la necessità di questo escludere includendo includere escludendo orientando ecco la pratica di parola la pratica di discorso la pratica verbale con i suoi organa adesso abbiamo capito sono organa storici quelli che non abbiamo esaminato qui che abbiamo detto e qui c'è tanto lavoro da fare quali erano gli organa verbali di un uomo primitivo di un uomo delle caverne possiamo ricostruire questo sapere con i nostri organa traducendola nella nostra interpretazione ingiusta sicuramente ma indispensabile per avere un sapere quindi un sapore quindi un orientamento quindi una finalità ecco la pratica di parole la pratica verbale con i suoi organa interviene con le sue repliche interpretative con queste repliche interpretative che vanno di bocca in orecchio che vanno di bocca in bocca grazie adesso possiamo dire così all'inerzia universalizzante dei discorsi quella che prima chiamavamo l'inerzia della parola impropriamente perché parola è una nostra interpretazione è un nostro luogo dell'axi sterne certamente un cinese non direbbe così però ci intendiamo col cinese così come ci intendiamo con gli schimesi sino a un certo punto ma ci intendiamo quindi c'è una costanza non solo delle parole del discorso la costanza questa cosa meravigliosa sublime totalmente umana che dove ci sono gli umani c'è il discorso in qualunque forma immaginabile ci sia chiacchierano dicono si dicono si ammoniscono si invitano si sollecitano si escludono litigano si amano questa cosa che è una soglia enorme una soglia che dobbiamo già usare che dobbiamo necessariamente usare per dire di questa soglia la sua infinita fecondità e la sua infinita parzialità provvisorietà appunto perché si deve continuare a dire perché c'è un transito infinito una catena di repliche interpretative che sono degli organi della pratica del discorso grazie ad una inerzia universale questo vuol dire inerzia universale che restano lì che restano lì che fanno traccia che lasciano resti perché ogni infante eredita l'inerzia dei discorsi di chi l'ha allevato di quelle che noi in una nozione culturale chiamiamo padri e madri che non è una nozione naturale questo lasciatelo dire alla Giorgia Meloni quindi c'è questa inerzia del discorso che si traduce con la sua forza con la sua potenza perché sempre di nuovo va rinnovata l'interpretazione e il nascituro il nato come dicevamo appunto non ha a disposizione che la carne dei suoi genitori la carne della sua cultura del suo axis terre però nella sua circostanza nel suo corpo separato nel suo corpo strozzato nella sua aria nella sua aura e quindi le repliche transitandole e le transita mutandole e questo non è finito mai e non finirà mai finché un essere umano sarà su questo pianeta o almeno così possiamo dire ecco perché quando diciamo parola questa è una strazione malposta e d'altra parte inevitabile è una conseguenza della pratica alfabetica e noi siamo tutti figli della pratica alfabetica attraverso la quale ci sono le parole ma non ci sono le parole in una comunità come diciamo noi dell'oralità primaria come diciamo noi perché noi distinguiamo l'oralità a partire dalla scrittura ovviamente l'oralità primaria è tutto un altro mondo perduto per sempre come è perduto per sempre il mondo dell'infante prima che diventi fante che diventi parlante è trascritto, tradotto, tradito dimenticato, ricoperto tutta la psicologia del profondo qui ha lavorato tantissimo quindi parola è una strazione ma apposta ma inevitabile possiamo immaginare di dire gestualità espressive potremmo percorrere questa nuova luce diciamo non diciamo parola a cui siamo troppo affezionati siamo troppo legati troppo accecati diciamo gestualità espressiva dicendo qualche cosa che racchiude anche gli organi naturali i sensi diceva Nietzsche ma intendiamoci non facciamoci illusioni è un tentativo comunque di dire nel discorso ora che questa cultura mi rende possibile perché nella catena che mi sorregge c'è tutta un'analisi della gestualità espressiva appunto quindi Omero non avrebbe detto gestualità espressiva e neanche Pindaro per cui è meglio di parola è meglio perché parola è più ingannevole è meglio perché parola ha dato luogo a superstizioni dalle quali ci stiamo liberando ma anche questo è una minaccia di superstizione ben inteso è un talismano è un grimaldello è uno strumento per costruire un discorso del sapere accessibile alla nostra mentalità alla catena che ci conduce che ci porta qui a essere quelli che siamo quindi possiamo ulteriormente focalizzare con significazioni indebite e necessarie quel lavoro che è tutto da fare dicevo prima che la grammatica del discorso nel senso dei medievali non nel senso moderno cioè la prosodia la retorica del discorso la potenza del discorso quindi siamo di fronte ad una catena di traduzioni epocali che transita di soglia in soglia e ogni interpretazione ogni transito contribuisce alla focalizzazione attiva e pratica ogni transito dell'interpretazione che si produce di bocca in bocca attraverso gli organi verbali del discorso come diciamo noi queste soglie attraversate arrivano sino all'ultimo punto della catena che le ricompende tutti quanti in sé che necessariamente li ricompone perché li fa rivivere nella sua espressione verbale nel suo discorso nella sua pratica quella che stiamo facendo qui sino all'abito finale appunto che ricapitola a suo modo l'intero percorso e si consegna la morte e si consegna il fatto che questo dissi dissi adesso vediamo cosa succede delle volte riguarda ancora me per così dire ma molto spesso non riguarda me riguarda il suo destino il suo nuovo spazio di allocazione la sua nuova casa ecco prendiamo come esempio finale la parola il lemma diciamo così libertà che naturalmente troviamo solo in un vocabolario con tutta la pratica che sta dietro ai vocabolari a partire dall'erudizione antica a partire dalla separazione delle parole scritte che fecero i non i greci classici ma i greci di Alessandria loro divisero perché prima si leggeva la parola scritta era uno stimolo per la voce era una partitura scritta per eseguirla con la voce e quindi presupponeva che in sostanza si sapesse già cosa c'era scritto era proprio un'esecuzione musicale come devo atteggiare per dire come devo mettere il corpo musicale musicus e quindi la scrittura era un talismano per vocalizzare e infatti si leggeva ad alta voce non esisteva la lettura solitaria silenziosa Agostino aveva un accidente quando vede Ambrogio che leggeva solitariamente in silenzio non aveva mai visto una cosa del genere ma questo non sarebbe accaduto senza appunto gli alessandrini che cominciarono a mettere le pause le parole sono il prodotto di questa pratica ma dovremmo essere degli alessandrini per capire cosa è questa pratica in che mondo stavano perché l'hanno fatta che rapporti avevano con i rotoli che rapporti avevano con la scuola con la cultura in genere con la casa della politica ecco se noi partiamo di qui allora quando diciamo libertà già sappiamo che scontiamo tutto quello che c'è dietro e il punto di arrivo per noi di una eredità espressivo verbale del passato è enorme tutta la catena ogni volta che io dico libertà e è chiaro che ogni transito della catena che io mi immagino è una mia fantasia anche la catena e non dimentichiamoci il mio modo di interpretare quel che sono arrivato ad essere ogni transito della catena ha interpretato l'espressione libertà a suo modo ha interpretato quella che abbiamo chiamato la sua inerzia semantica in base al suo uso della memoria e al suo uso del ricordo nelle due accezioni che qui abbiamo dato a memoria e ricordo cioè a partire dal suo esercizio quotidiano del ricordo della sua tecnica di lettura di espressione di scrittura e del suo progetto di vita perché lo faceva quali fini si dava che cosa aveva focalizzato trascurando ed escludendo come ciò che voleva essere quella pratica e come voleva che fosse e ogni volta la proposta di fatto aveva la portata semantica del termine del terminus ad quem e del terminus a partire a quo a partire dal quale è significato storico diciamo noi che lascia nell'implicito nell'oscuro l'orizzonte compartecipe dell'intero universo è orizzonte di senso in atto lì in atto negli abiti interpretativi del locutore e in quanto locutore in atto nelle sue verità appunto viventi pubbliche locutore inteso in maniera indispensabile quanto non determinabile trascurato ignorato lasciato morire rivissuto rinato resuscitato ogni volta resuscitato ogni volta lasciato morire così trapassa la trama diveniente così trapassa ora cominciamo a vederla cominciamo poi bisognerebbe farne un esercizio come abbiamo tentato prima di fare un esercizio su un textus ideale immaginario voci che parlano non sono la mia non sono la tua non sono la sua ma solo tutte quindi così così si costituisce così transita così trapassa quella trama diveniente ora finalmente possiamo qui fare punto quella trama diveniente che abbiamo chiamato verità pubblica e la sua architettonica ora ne abbiamo tracciato qualche orizzonte qualche confine e dobbiamo semplicemente dire quest'ultima cosa non dimenticare di dire quest'ultima cosa che questa focalizzazione del discorso questa focalizzazione attiva e pratica che noi incarniamo privata in maniera privata e pubblica è una proposta pratica è semplicemente una proposta pratica è appunto il passaggio all'etica totale proposta pratica il cui fondamento di senso si trasmette si esaurisce nella sua fecondità nella potenza del suo transito di fecondità cioè nei figli che farà se ne farà che se ne nutriranno faranno della sua materia la propria materia ma al modo loro nella differenza della separatezza originaria di tutti i corpi espressivi e di tutti i corpi viventi una fecondità che caratterizza appunto la vitalità di questa proposta quindi una suggestione interpretativa è questo che vediamo ora una suggestione interpretativa che si reincarna costantemente una suggestione reinterpretativa della parola libertà quanto si parla di libertà a proposito e a sproposito si dimentica sempre di precisare se si intende libertà da o se si intende libertà di che sono due cose molto diverse libertà da oppure libertà di libertà dalla costrizione degli altri o libertà di imporre la mia diciamo così di imporre la mia fecondità questa questa proposta pratica si trasmette nella potenza della sua fecondità come per ogni vivente cioè in una suggestione interpretativa che si reincarna mutando in nuovi contesti di pratiche d'azione questo l'abbiamo capito in nuove forme di vita diceva Wilkestein e per esempio se noi facessimo un esempio molto concreto cosa significa libertà per Hobbes è la libertà di Hobbes ovviamente che è il punto di arrivo di una catena ma che arriva anche a me perché dico Hobbes so di che cosa parlo anche voi c'è una catena di interpretazioni della libertà di Hobbes e la cosa più suggestiva è che Hobbes come faceva Nietzsche esattamente come faceva Nietzsche che abbiamo letto prima collega la libertà col movimento libertà da libertà di libertà di quanto ti puoi muovere per cui non c'è una assoluta come dire restrizione non c'è un carcere assoluto per nessuno neanche per il carcerato perché bene o male il carcerato è libero tre passi per quattro libero di poi naturalmente c'è anche la libertà da che è quella degli altri che l'hanno messa di fronte ai muri ma intendiamoci questa fecondità di questa intuizione hobbesiana meravigliosa perché parla delle cose piccole direbbe Nietzsche dei corpi con la loro quotidianità con la loro vita e con i loro progetti di vita mi progetto di andare di là sino là perché sino là posso andare o ma attenzione forse che non sono così tutte le nostre vite forse che io adesso posso andare a Donolulu ma non mi sogno non posso non ho la facoltà fisica di farla non ho forse neanche il denaro necessario per andare a sperverare e così è per tutti tutti noi abbiamo una quantità di passi e una quantità di orizzonti e una quantità di muri di case ecco l'architettonica della verità pubblica è questo movimento significato nato in trame particolare quando Hobbes diceva queste cose noi che abbiamo una conoscenza storica ci facciamo un'idea appunto un'idea un'illusione ma è una immaginazione sapiente che tiene conto di tanti resti e li interpreta in coerenza e Hobbes aveva il suo mondo aveva le sue carceri aveva la torre di Londra aveva il sovrano aveva le sue illusioni aveva la sua potenza la sua presunzione di potenza o volontà di potenza e ne ha avuta tanta sino allo stesso Mars che lo riconosceva e diceva forse Hobbes è più importante di Riccardo perché dice la verità perché dice delle cose vere delle cose profonde delle cose molto particolarmente incarnate quindi che significa libertà nello scritto di Hobbes significa una trama un'architettura una serie di contesti che sono scomparsi ma che sono resuscitati che sono stati continuamente resuscitate perché evidentemente la potenza di questa parola in Hobbes aveva una grande fecondità aveva la capacità di assimilare come diceva White più assimili differenze più diventi potente più crei problemi a te stesso certo risuscitati in una tradizione di nuove focalizzazioni sino a noi sino al nostro ribollente orizzonte di pratiche qui c'è un ribollente orizzonte di pratiche quelle che stiamo praticando qui ascoltando parlando immaginando sono sicuro che la sola enunciazione nel textus della parola libertà questo suono ha risvegliato emozioni in ognuno di voi colori e calori emozioni forti quindi possibilità di intendersi e di non intendersi di intendersi e di fraintendersi possibilità di intrecci infiniti quello che io ho chiamato il destino della potenza come spazio del suo aver luogo come spazio del suo aver luogo sino al silenzio che un giorno verrà bene vi ringrazio di tanta attenzione grazie 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 grazie